www.arizopoli.it, opportunità per tutte le strutture alberghiere, ricettive, tutto il settore turistico con il bando Firtour, che è operativo fino al 31 di luglio, un mese di tempo. Sono fondi pieni RR, l'investimento per la struttura ricettiva per quanto riguarda tutto il concetto di sostenibilità, energetica, antisismica, digitalizzazione, un investimento minimo di 500 mila euro, massimo 10 milioni di euro, tre anni di preamortamento previsti con un minimo di 4 anni e massimo di 15 di rimborso, con un tasso previsto dal medico centrale dello 0,5, 0,5. Ci deve essere pari importo di un istituto bancario, i due finanziamenti non possono superare il 100% dell'investimento. È un'opportunità molto interessante, per le imprese del Sud c'è il 40% delle risorse, c'è solo un mese di tempo. Vi riporto il link. Alla prossima!